La provincia di Bergamo si è resa disponibile volentieri per l'istituzione di questo gruppo europeo di coordinamento territoriale nella convinzione che l'unione davvero faccia la forza. È un modello che abbiamo voluto e nel quale crediamo assolutamente qua sul territorio della provincia di Bergamo, a maggior ragione a livello europeo siamo convinti che l'unione tra diversi comuni con caratteristiche simili possa davvero creare sinergie che aiutino tutti. Nel campo della cultura in particolare è di grandissima importanza riuscire a fare rete per promuoversi insieme, per accedere ai fondi ma anche solo per conoscersi e scambiarsi esperienze.